Benvenute a tutte e a tutti, oggi apriamo il Tg parlando della protesta degli agricoltori e lo facciamo sentendo la viva voce di uno dei suoi protagonisti, Nane Bortoin. Buongiorno signor Nane Bortoin, allora ci racconti com'è andata questa protesta degli agricoltori. Non stai neanche a parlarmene, se doveva partire da Roma, ma ti sai che in strada di Roma un collega agricolo si è finito dentro su un buzo non veniva più fuori. E ora siamo dovuti partire da qua, mi e il mio amico Beppi che si è venuto via sopra a trovare a Morosa. Dopo due chilometri un insegna che c'era scritto trattoria, questo è il posto per noi altri, trattori, trattoria. Ciò Beppi ha visto un cartello, invece del laser oggi gnocchi ha letto oggi gnocca. Andiamo entro, andiamo entro, se a manià bevù, se sei incalcato le ombre, andiamo fuori e mi pareva che se c'era di andare da tutta che altra parte, semo arrivai al mare. Ma a Bruxelles non c'è il mare. E infatti se c'era arrivai a Bruxelles, comune di Caorle, parti da nuovo e ora rimettete in strada. Ma siete arrivati poi a... Corsa. No, dico in Belgio. Ma qual Belgio? Ma Bruxelles, non c'è dopo Padova. Ma no, ma quello è un paese, si chiama Brusegana. Vabbè, comunque, semo partì un viaio che non finì più. Interstellare. Mi pareva a Via Lattea. A proposito del latte, godo a parlare con Ursula von der Loden. Ma quale von der Loden? Vuole dire Ursula von der Leyen. Sì, quello. Cosa tu hai ditomi? Godo a parlare dei quote latte. Godo a dir che Ursula, non stammi a cavarmi la quote latte della mattina è perché mi bevo mezza scuola con la cioppa di pane la mattina. Ma hai riuscito poi a parlarle? Ma che? Una guerra? Come con i moini a vento? Ma i moini a vento sono in Olanda, non in Belgio. E mi ha avuto che in Belgio noi gabbia, due moini a vento. E comunque abbiamo fatto il presidio a fine. Oh, e allora ci dica, quanto è durato questo presidio? Ma che cazzo di domande mi hai fatto? E si è durato finché si è durato il VIN e dopo si è successo che Beppi, Beppi già era incassato perché non l'aveva trovato amorosa. Ma sai tu perché? Perché lui ha messo sul trattore un spaventapasseri. Ma mi hai detto, qui non è un spaventapasseri, è un spaventapasseri e scampo a tutte. E gli ha detto, ho un nervoso, prima di tornare a casa facciamo due passi. Sì, l'abbiamo fatto, è il portoio e il falsarego. Oh, non si arrivava altro. Un disastro!